La quarta declinazione comprende pochi nomi maschili, femminili e neutri. È caratterizzata dalla vocale tematica U. Il genitivo singolare esce in US. Il maschile si declina come il femminile. I sostantivi neutri escono al nominativo singolare in U. Decliniamo insieme magistratus magistratus, un termine della quarta declinazione che ha due significati, il primo astratto e il secondo concreto. Magistratus magistratus indica la magistratura intesa come carica politica e questo è il significato astratto. In concreto indica colui che detiene tale carica, il magistrato. La radice del termine è magister magistri, nome della seconda declinazione, il cui significato base è capo. Nominativo magistratus la magistratura, genitivo magistratus della magistratura, dativo magistratui alla magistratura, accusativo magistratum la magistratura, vocativo uguale al nominativo magistratus o magistratura, ablativo magistratu, con la magistratura, vari complementi indiretti. Il plurale, nominativo plurale magistratus le magistrature, genitivo magistratum delle magistrature, dativo magistratibus alle magistrature, accusativo magistratus uguale al nominativo le magistrature, magistratus vocativo o magistrature, magistratibus ablativo, vari complementi indiretti.